Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. Come ieri, più di ieri, molto più di ieri. Se c'è una notizia tutta italiana che tutto il mondo commenta è quella del campo migrante italiano in Albania. I commenti e anche molte critiche si sprecano. Un po' come quando il premier britannico Sunak ipotizzò di appoggiare i suoi richiedenti asilo in Rwanda. Inevitabile quindi per Ristretto italiano cominciare anche oggi da qui. Di notizie extra all'Albania oggi non ce ne sono tante ma qualche cosa di simpatico comunque l'ho trovato. Aspettate. Albania allora. Comincio dal Financial Times, una delle testate più autorevoli al mondo che nell'articolo dedicato ai piani migranti di Italia, Germania e Austria a noi riserva il capitolo intitolato Problemi di esternalizzazione. Solo pochissime settimane dopo che i paesi UE hanno raggiunto un compromesso della riforma dell'asilo, scrive la redazione londinese, Italia, Germania e Austria stanno portando avanti, ognuno per conto suo, piani a dir poco controversi. L'Italia ha annunciato che esaminerà le richieste di asilo in Albania, un accordo che ha colto di sorpresa Bruxelles, che l'ha saputo solo un'ora prima dell'annuncio, secondo la dichiarazione di un alto funzionario della Commissione. Sorpresa in quanto le leggi europee sull'asilo stabiliscono in realtà che i richiedenti asilo devono essere autorizzati a rimanere nello Stato membro durante la procedura d'esame e quindi è probabile che il piano italiano violi la normativa oltre alle complicazioni previste dal diritto internazionale. Dal Belgio, The TID, sottolinea come oltre al fatto che l'Italia è pioniera in queste pratiche di esternalizzazione delle richieste d'asilo fuori dal territorio dell'Unione, l'Albania, candidata da molto tempo a entrare, abbia un interesse evidente a collaborare. Tuttavia i tempi d'ingresso per Tirana in Europa non si annunciano brevi. Da Parigi, Le Figaro titola, l'Albania non accoglierà più di 3.000 migranti alla volta in base al suo accordo con l'Italia. Cosa che di fronte a 145.000 sbarchi in 10 mesi, che sono mediamente 14.500 al mese, e a fronte anche dei tempi lunghi per il disbrigo delle pratiche, alla fine è ben poca cosa. Dalla Svizzera, la Neue Zurker, oltre a sottolineare questo piccolo particolare, considera che anche l'effetto deterrente auspicato dovrebbe essere molto basso. Quando sei in Albania, non sei più tanto distante dalla destinazione finale agognata, ovvero l'Europa centrale o settentrionale, non ci sei più vicino, dicevamo, di quanto lo sia l'Italia. e quindi alla fine potrebbe aprirsi una seconda rotta balcanica di profughi che si allontanano dai centri albanesi per poi risalire la costa adriatica. Chiudo il capitolo Albania con Info Migrants, che titola inumano, illegale, forti critiche all'accordo tra Italia e Albania sull'esternalizzazione delle richieste d'asilo. Articolo che specifica come, oltre a Bruxelles, nemmeno l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati sia stata informata dell'accordo mentre era in fase di discussione. UNHCR che sottolinea come il rifugiato abbia diritto, secondo le leggi internazionali, ad attendere risposta alla sua domanda d'asilo sul territorio del paese stesso. Basta Albania, rimaniamo per concludere sul tema Africa-Italia con l'economista Maghreb che annuncia che l'Italia organizza il suo primo Africa Summit. Si svolgerà a Roma tra il 28 e il 29 gennaio con l'obiettivo di presentare ai leader del continente africano un programma di cooperazione focalizzato sull'energia, un'altra sfaccettatura quindi del famoso Piano Mattei. L'obiettivo è duplice, garantire l'approvvigionamento di prodotti energetici da parte dell'Unione Europea e accelerare lo sviluppo dei paesi africani per rallentare i flussi migratori. Intento, peraltro, già annunciato dalla nostra Premier sul palco delle Nazioni Unite durante l'Assemblea Generale di settembre. Venendo ora a parlare completamente d'altro, Sud West, importante testata francese, intervista l'ex boss mafioso con due ergastoli da scontare che si era creato una nuova immagine di uomo irreprensibile come pizzaiolo a Saint-Étienne, non distante da Lione. Titolo, ho paura di morire in Italia, i segreti dell'ex boss mafioso diventato pizzaiolo. Lo conoscevano fino a non molto tempo fa come Paolo Dimitri, la sua pizzeria era frequentatissima, fino a quando l'Interpollo ha arrestato nello scorso febbraio dopo averlo riconosciuto come Edgardo Greco, affiliato all'Andrangheta, due ergastoli per due omicidi e anche per un tentato omicidio, tutti commessi nel 1991. Era in fuga da 16 anni dopo essere evaso, ora è in carcere a Lione in attesa dell'estradizione e si confida con il giornalista di Sud West. Nega di aver ucciso i due uomini, dice mi pento di essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato, vorrei solo essere dimenticato, ma il passato mi ha raggiunto ed ora so che se restituito all'Italia probabilmente mi uccideranno in carcere. Non nega di aver avuto amicizie pericolose, si giustifica raccontando di essere stato un adolescente solo, cresciuto in un ambiente ultraviolento. Insomma, diciamo che ci ha provato anche con l'intervista, ma non è detto che i giudici francesi si lasceranno impietosire. Mica è un ex terrorista lui. Un sorriso in chiusura ci vuole e lo strappo alla rivista australiana di viaggi Escape che dedica un servizio alla guida degli italiani. Ecco gli errori al volante che non devi mai commettere in Italia. Il sogno, scrive la viaggiatrice che è stata in Italia, era quello di guidare serenamente su un'auto a noleggio attraversando vigneti splendidi e coste mozzafiato. La realtà si è rivelata un viaggio nel terrore su un'autostrada per l'inferno. Velocità da sciogliere il cervello, cambi di corsia mozzafiato, pochi segnali stradali e alcuni incomprensibili a me, un'australiana, che oltretutto sono abituata a guidare dall'altra parte. Quando sei a Roma, guida come fanno i romani, mi avevano detto, parafrasando, il detto famoso, ma mica è facile lasciarsi andare nel flusso tra improvvisi cambi di corsia, frenate altrettanto improvvise, in versioni AU inaspettate. Seguire il flusso a 150 all'ora e venire comunque sorpassati non è facile e le frecce, gli italiani non sanno che cosa sono. Sarà perché hanno la Ferrari e la Lamborghini, ma in Italia tutti pensano di essere su una macchina da corsa. C'è uno spazio vuoto? Loro lo riempiono. In Australia, conclude la viaggetterice, scioccata, per esprimere disappunto verso un'altra auto, siamo abituati a dare un colpetto di claxon. In Italia, invece, quel colpetto lo interpretano semplicemente come un segnale di saluto. Se lo fai, si girano per capire se ti conoscono. Loro, invece, per segnare il disappunto, fanno le corna. Insomma, se vai in Italia, più che un'auto dovresti noleggiare un autista. E questa mi sembra una grande verità. Del resto, il portafoglio, quando attraversano il mondo per venire qui, ce l'hanno abbastanza importante anche per noleggiare un autista. Vi lascio qui con questo sorriso, ha fatto sorridere anche me. Vi auguro una buona giornata, vi aspetto domani sempre qui.